E' cartelli, bidone della raccolta della carta, tutte ste cose qui. Ho poi buche a non finire, caditoie sparse dappertutto, ho tombini sopraelevati, quindi ecco quello che abbiamo incontrato. Non è una sceneggiata né una carnevalata, ma una dimostrazione. Lo ha precisato sin da subito Carlino Bertini, residente della zona, che questa mattina insieme a Giorgio Francolini ha fatto vedere in che modo un diversamente abile deve percorrere via trave dopo le modifiche recenti apportate dall'amministrazione comunale di Fano. Abbiamo fatto un percorso, questo percorso ad ostacoli e magari con un traffico limitato, quindi non con tutte le difficoltà del traffico di mezzogiorno della mattina alle 7, però un percorso molto accidentato. Il conducente ha dovuto rientrare diverse volte perché ci sono dei tombini sopraelevati addirittura nei passaggi pedonali. Io pedone ci passo tranquillamente, io con un handicap non riesco a superare, io mamma con la carrozzina non ce la faccio, va bene? Ecco questo, i tecnici del comune di Fano non si sono resi conto di questi. Per esempio guardate, qui c'è un dosso, la caditoia è dopo del dosso, in caso di pioggia ecco l'allagamento, tanto Fano è abituata agli allagamenti, non c'è problema, è un piccolo allagamento. Ma la caditoia non la si fa dopo del dosso. In questo regno noi sudditi non abbiamo assolutamente la protezione. Nella città dei bambini in cui vivono persone disabili, ha poi chiesto Bertini, si vuole provvedere a fare un percorso per questa categoria più debole. Intanto ieri in Via Trave sono stati eseguiti dei controlli da parte dei vigili urbani. Mi sono anche meravigliato, tanto è vero che su Facebook ho scritto Miracolo in Via Trave, dopo dieci mesi si è vista una pattuglia con un rilevatore di velocità. È un pagliativo, non serve a niente, serve al momento finché loro sono presenti e le macchine, nonostante questo credo che mi sembra che abbiano fatto tre, quattro multe. Però i lampeggi dall'altra parte, il cartello che diceva che c'era una pattuglia, è chiaro che ha invogliato tutti ad andare molto lentamente. Non servono a niente queste cose, noi lo ribadiamo, io personalmente, ma tutti i residenti lo ribadiscono da due anni e mezzo, che l'unico mezzo per fermare la gente che va forte è un rilevatore di velocità fissa. Andrete anche dal prefetto? Sì, abbiamo un incontro credo fra una settimana, massimo dieci giorni, con il prefetto, proprio per illustrare le problematiche di questa via e degli obbrobri che hanno fatto. Questa rotonda e la strettoia davanti alla palestra e la strettoia in fondo. E quindi ci muoveremo e non saremo mai fermi finché non hanno tolto questa schifezza.